Buongiorno e ben trovati alla prima edizione del mattino del Tg della mobilità. Inizierà questa mattina alle 8.30 lo sciopero di 4 ore sulla linea Roma-Lido, una protesta proclamata solo tra i lavoratori della ferrovia e che non coinvolge il resto della rete di trasporto pubblico. Possibili disagi sulla tratta eurmagliana Lido-Centro, l'unica attiva sui binari nei giorni feriali. Da questa notte invece al via un cantiere notturno sulle corsie tramviarie di Viale Trastevere. Di sera e di notte, sino al prossimo 3 dicembre, le linee 3 e 8 viaggeranno con bus navetta sostitutivi. Sulla linea 3 le ultime corse con i tram saranno alle 19.49 da Porta Maggiore e alle 20.32 dalla stazione Trastevere. Per la linea 8 invece ultima corsa dei tram alle 19.30 da Piazza Venezia e alle 20.08 da Casaletto. Per la linea 8 invece ultima corsa dei tramviarie di Viale Trastevere.